Un'opportunità per valorizzare il patrimonio bibliotecario, ma anche per incrementare l'offerta dei servizi culturali in città. È stato presentato a Barletta, nella sala emeroteca della Biblioteca Comunale Loffredo del Castello, l'avviso pubblico Community Library, biblioteca di comunità, essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. Il bando, che è stato prorogato dalla Giunta regionale al prossimo 10 novembre, prevede il finanziamento di progetti per la promozione della lettura e della cultura. Un'occasione per rendere partecipi i cittadini dell'importante patrimonio librario di Barletta, ma anche per rilanciare la città verso traguardi sempre più ambiziosi. E quindi noi vorremmo cogliere l'opportunità che la regione offre con questo nuovo bando per rendere più fruibile non soltanto la nostra biblioteca, ma il patrimonio librario della nostra città, renderlo un patrimonio al servizio della comunità. E quindi se avremo la possibilità di definire alcuni progetti che sono per il Palazzo San Domenico o per la Palazzina Reiklin, per esempio, per allocare il patrimonio librario della ex cantina sperimentale, credo che questo potrà essere qualcosa di molto utile per la città.